Si chiude con un pareggio contro la Vibonese la stagione del ritorno della Turris nei campionati professionistici dopo quasi 20 anni di assenza. L'obiettivo salvezza dichiarato dalla società è stato raggiunto con un turno di anticipo anche se con qualche patema di troppo nella seconda parte di campionato visto anche l'ottimo rendimento nella fase iniziale. La trasferta a Vibo Valencia aveva poco da dire dal punto di vista della classifica con le due squadre già salve e senza velleità di playoff. Corallini che si presentano in Calabria con una difesa a tre e lungo punta sostenuto da Romano e Giannone. Succede poco fino a minuto 35 quando Plescia ben imbeccato dall'Aribi in contropiede buca la difesa ospite e costringe Loreto al fallo da ultimo uomo con conseguente espulsione per il difensore. Turris in dieci per quasi un'ora. Nella ripresa Giannone supera bengoni da pochi passi ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. A passare in vantaggio invece è la Vibonese con un tiro dal limite di Spina che trafigge a Bagnale. Passano pochi minuti e Persano subentrato nella ripresa raccoglie un bel cross di Giannone e spaccata batte il portiere rosso-blu. Le squadre nel finale provano a superarsi ma il risultato non cambia più. Pareggio giusto che chiude una stagione di alti e bassi ma che ha riportato entusiasmo in una piazza da tanto tempo lontana da importanti palcoscenici. Appuntamento quindi alla prossima stagione ancora in Serie C.